I giornamenti di mercato dell'ultima ora, consentitemi di ringraziare tutti coloro che nel corso della passata settimana si sono messi in contatto con la nostra redazione attraverso la posta elettronica per commentare il cambio tecnico del Parma, consentitemi di ringraziare tutti quelli che anche nel corso della giornata di oggi si sono prenotati per intervenire telefonicamente, la nostra trasmissione, lo sapete, è assolutamente aperta a tutti, una trasmissione nella quale non ci sono censure se non nei confronti ovviamente delle volgarità e delle offese gratuite, è una trasmissione nella quale convivo e convive un pluralismo di opinioni. La scorsa settimana c'è stata qualche critica nei confronti dell'operato della società, critiche che non sono state particolarmente gradite, noi però rivendichiamo la nostra autonomia e soprattutto la nostra indipendenza. Questo lo diciamo a tutela in particolar modo di chi ci segue settimanalmente, proprio perché tutti devono sapere che abbiamo le mani libere. Allora Andrea Schianchi, adesso vengo da te. Allora Andrea Schianchi, adesso vengo da te.